L'entrata è dopo le scale. Ma c'è solo una guardia, possiamo prenderla? Se ci vide, suonerà l'allarme. Dobbiamo essere silenziosi. Quindi che fate? Potremmo passare di nascosto. Hai notato cosa indossa il mio personaggio? Un'armatura. Troppo rumorosa. Allora andrò da solo e lo colgo di sorpresa. Va bene, allora tira su furtività. Piano, piano, sacco le scale. Ora faccio un giro e... Spero non mi veda. Fermo! In nome del re. E come si chiama? Gerald, con la J. Questo è il giardino reale del re. Solo i nobili possono averne accesso. Il re? Pensavo che fosse della regina. Questo non è della regina? Via lo scofurfante. O sarai punito dal re in persona. Vedi, te l'avevo detto. Hai forse un'idea migliore? Stai indietro. Ci penso io. Quindi sarà... Intimidazione? Fermati in nome del re. Devo andare dall'altra parte di quell'entrata. Sembra che tu abbia due opzioni. Prima opzione. Chiudi gli occhi e facciamo finta che non sia successo niente. Seconda opzione. Un secondo. Ok. Mi scusi tanto. Farò finta che non sia successo niente. Ora via lo scofurfante. O sarai punita dal re in persona. Visto. Te l'avevo detto. Qualcuna ha un'idea migliore? Vado verso il tizio. Vuoi tirare su qualcosa oppure... Fermati in nome del re. È molto più facile passare su una guardia morta. Che suona viva! Palla di fuoco. No! Seriamente, ogni volta che vai succede questo. Non parli mai con il gruppo. È successo la stessa cosa l'ultima volta. Io non capisco perché questa sia la tua unica soluzione. Davvero? Devi sognare di chiare solo le cose. Perché facciamo piano? Ok, ok. Ricordi. Ragazzi. Ricordi di avere un gruppo con cui spesso... Dovreste tirare su percezione. Non puoi pensare di risolvere tutto questo da sola sempre con una palla di fuoco. Ragazzi, c'è nessuno? Devi imparare che... Mi sentite? Sono qui. Non devi subito e stare in consiglia e fare quello che fate fare. Mi fare una scelta ragionata è solo... Tirate su percezione. Ragazzi, ci sentite? ...che perdiamo e non so te. Ma io non voglio perdere, altrimenti nemmeno avrei cominciato questo diamine di gioco. Quindi, per favore, smettila con le cazzo di palle... Fermi! In nome del re. Tirate iniziativa. Salve a tutti amici, sono Sam di SamProduction. Tranquilli, non guardate, riquadro con la guardia perché tanto non sto seguendo quello che dice. Voglio innanzitutto ringraziare la Darestalker Picture per avermi permesso di fare queste serie. Voglio ringraziare tutti i doppiatori, soprattutto andate in descrizione e iscrivetevi ai loro canali che sono veramente bravi. E noi ci vediamo col prossimo episodio. Ciao belli!